Unisce ben 19 strutture ricettive del territorio comunale tra hotel, alberghi e bed and breakfast. È il gruppo ospitalità e turismo Marotta Mondolfo, presentato nella sede della Croce Rossa di Marotta alla presenza di un ospite d'eccezione, nonché cittadino onorario, ovvero Enrico Ruggeri. Il cantautore è stato anche premiato con una targa per la continua e preziosissima promozione di Marotta, un legame che si rafforza ulteriormente con questo tassello. Ruggeri infatti ha raccolto proprio in mattinata l'invito a diventare il direttore artistico di una serie di importanti eventi. Ho un forte legame affettivo perché è il posto del mio approccio alla vita, le prime vacanze, le prime fidanzatine, i primi amici che sono ancora quelli di oggi, per cui un posto importante. Poi un posto del quale ci si innamora. Io non ho mai conosciuto nessuno che dicesse sono venuto a Marotta una volta e non mi sono trovato bene e non sono più tornato. Purtroppo ogni tanto conosco qualcuno che mi dice Marotta, ah sì, te ne parli sempre, Nicola Savino fa la tua imitazione citando Marotta, ma dov'è Marotta? Ecco, ogni volta che qualcuno mi dice così, per me quella è una piccola sconfitta alla quale porre rimedio. Per cui io ho semplicemente raccolto l'invito di alcuni amici che mi hanno detto di mettere la mia esperienza a vantaggio di Marotta. Io posso farlo organizzando delle cose, aiutando, dando consulenze, raccontando qualcosa sulla musica, perché poi il mio settore è la musica, sicuramente renderemo Marotta una città un po' più vicina alla grande musica. Immagino, se hanno chiamato me, al rock, alla musica d'autore, a cose di questo genere. Però insomma, valorizzare la doppia caratteristica, perché Marotta è Marotta-Mondolfo, quindi abbiamo un mare particolare del quale ci si innamora, perché non è un mare con 32 file di ombrelloni, ti puoi divertire, ma puoi anche stare tranquillo. Però abbiamo a pochi chilometri la collina, panorami, altri posti che si mangia benissimo, altra gente simpatica, una bellissima cittadina come Mondolfo. Per cui valorizzare questa doppia veste e portare della musica. Obiettivo del gruppo Ospitalità e Turismo Marotta-Mondolfo è quello di sviluppare un turismo per il territorio che sia sempre più innovativo e all'avanguardia, senza dimenticarsi delle radici e della storia del territorio. Valorizzare allo stesso tempo il mare, le bellezze paesaggistiche, le eccellenze culturali, storiche e no gastronomiche e i servizi. Oggi nasce Ospitalità Turismo Marotta-Mondolfo. Sono quasi tutte le strutture ricettive del territorio, hotel e brand breakfast che si mettono insieme per fare turismo, per supportare tutte le associazioni, per supportare l'amministrazione. Cerchiamo di destagionalizzare, gli obiettivi saranno quelli, soprattutto destagionalizzare. Vogliamo arrivare a non fare più i tre mesi ma i sei mesi e addirittura l'annualità. Marotta tutto l'anno, appunto, Marotta-Mare d'Inverno. Fra gli obiettivi del gruppo anche quello della promozione, della collaborazione, della destagionalizzazione e della creazione di sinergia alberghiere. Il gruppo è già al lavoro per il prossimo anno, pensando ad una promozione capillare per far conoscere ad una platea il più possibile vasta quanto di meraviglioso il territorio ha da offrire.